ciao drusilla ma lo sai perché gli uccelli cantano per loro cantare è molto utile e adesso vi faccio un esempio facciamo questo esperimento questo è un verdone un piccolo uccello che possiamo trovare anche da noi nei boschi ecco questa pianta simula gli alberi di un bosco di una foresta visto che è di piccole dimensioni ha difficoltà a comunicare con un individuo che magari si trova da quest'altra parte ed è anche per questo che cantano quindi al di là degli ostacoli visivi possono propagare quelli che sono i loro segnali ed è per questo che gli uccelli cantano detto questo se la natura la conosci l'ami e se l'ami la proteggi ps sentite questo è il canto del rigogolo sì molto affascinante sapevate che è indispensabile il rigogolo per la propagazione delle piante di fico infatti se buttate a terra un fico la pianta non nasce invece quando un rigogolo mangia un fico con gli escrementi un'altra pianta può nascere adesso lo vado a cercare